è partito il tempo, 3 minuti di tempo girate però come doccia agli antichi egizi non puoi assecondare qualsiasi 30 secondi sono passati avete ancora 2 minuti e mezzo in gioco passate, gira, puoi aspettare e puoi andare dovete stare un po' che... niente, non ce la fate vai, vai, vai vai, vai vai in piano vai, vai, vai vai, vai vai, vai tanto lei da bere acqua, dondo un minuto di 25 secondi siamo praticamente a metà gara mi ricordo che poi dopo mentre le altre due squadre che si posizionano i giudici vanno a pesare quant'acqua c'è dentro nei bidoni quant'acqua c'è dentro nei bidoni la squadra verde che è la squadra di massa ha deciso di riempire l'intuissecchio due minuti manca un minuto al termine della gara ok, attenzione mi ricordo che il giudice a riuscaldare i tre minuti toglierà il inputo dal bidone 30 secondi 30 secondi mancano ok, recuperate l'acqua 20 secondi 20 secondi 15 15 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 Stop ok portiamo subito i bidoni i bidoni grazie 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 grazie